Paolo, grazie. Allora, Massimo Gemini, siamo di nuovo qua. Partiamo però dall'intercettazione in Piemonte. Cosa si dicevano per elargire, a me dice, funzionari delle carte per non pagare i 12 euro d'autostrada? L'ho chiamata per fare gli auguri e dirle che ancora per quest'anno me l'hanno portata. Quindi, se ha bisogno di quella tesserina per Bardonecchia... Lei mi dica poi se ha bisogno per lei e per sua moglie. Venita alla Fornaca, non paga niente, questo è ovvio. Ti chiedevo una cosa, ma secondo te quest'anno riusciamo lo stesso ad avere una tessera lì? Ah, bella domanda. Ma perché ci vai ancora in montagna? No, ma ci va tutte le settimane mia figlia Francesca. Per lei non ti preoccupare. Non è ancora arrivata sta tessera, giusto? Perché mia moglie mi rompe i coglioni. Me le portano la prossima settimana, così ti do anche lo schipass. Allora, prima sentivamo la bombola del gas in cambio dei voti a Bari, adesso invece è il privilegio. Il problema è il paese o il PD? Il problema è il paese e il PD. Perché alla fine, quando ci capita di leggere queste intercettazioni, quello che sto per dire è ovviamente un paradosso. E le mettiamo a confronto con quello che succedeva ai tempi della prima Repubblica. A me viene in mente, perché me ne occupai e la seguimmo, la maxi tangente Enimont, considerata la madre di tutte le tangenti, un'operazione di sistema di tipo industriale che metteva assieme la chimica pubblica con quella privata. La maxi tangente era 90 miliardi, capisci? Una cosa enorme. Qui ormai un voto vale una tessera per l'autostrada, un buono pasto, 50 euro. E' la fine, purtroppo, miserabile che sta facendo la democrazia in questo paese. Qualità è la classe dirigente? Chi la vota e chi viene eletto? Questa è Mauro Di Noia, la campionessa dei voti, l'assessore regionale. Non solo è stravotata, ma è anche straricercata la partita a destra per la presenza. Lei di preferenze, come l'hanno ribattezzata. Sì, il problema è proprio questo. Il trasformismo è la cifra politica della Seconda Repubblica. Ce lo portiamo dietro da sempre, in pratica. Quello che però colpisce è che i partiti, e questo è un problema specifico del PD, di fronte a una questione come questa, che richiederebbe un esame preventivo e una selezione preventiva della classe dirigente, pensano di risolvere con i codici etici. Il codice etico non serve a niente. Se il tema è il trasformismo e chi cambia casacca da una legislatura all'altra... Figurati se non firma un codice etico. Ma che problema c'ha a firmare il codice etico dove dice io ho la fedina penale pulita? Non è questo il tema, non è questo. Bisogna selezionare le persone. E questo il PD, come tutti gli altri partiti, hanno smesso di farlo. E quindi valgono soltanto i potentati locali. Selezionano sulla base del consenso che porta. Solo quello. Anche dall'altra parte non stanno messi bene. Tu sai il sottosegretario del Mastro, già mille problemi, ha parlato, non ha fatto uscire notizie sul cospito, non ha fatto uscire. Era nella festa in cui Pozzolo sembra sparato. Pozzolo dice che ho sparato io. Guardate un po' gli altri, lasciando intendere. E poi, a quanto pare, fa una rissa col candidato sindaco del suo partito a Biella. Lui smentisce, però ci sono i racconti. Noi ce la siamo immaginata così. E guarda questa ricostruzione grafica. Lui arriva, dice tu che hai fatto? Dove ti sei permesso? Lui dice chi io. Arrivano alle mani della scorta. Li divide. La scorta che dovrebbe difendere del Mastro. In effetti, magari l'ha difeso. Il capitolo del Mastro ci porta al modo in cui dall'altra parte scelgono le persone. Perché ora parleremo di Sant'Anche e anche di la russa. Come le scelgono dall'altra parte? Ma dall'altra parte vale la regola degli amici degli amici, il familismo amorale e poi soprattutto la fedeltà di partito. Quello sì. Perché la cifra caratteristica di Fratelli d'Italia, di Giorgia Meloni, è esattamente questa. Lei ha una memoria di ferro perché ricorda tutti coloro che sono stati al suo fianco quando lei era un underdog e quando Fratelli d'Italia era ancora alleanza nazionale o prima ancora movimento sociale italiano. Quella è proprio una scuola di adesione ad una certa idea della politica che aveva anche una sua nobiltà. Bisogna intendersi su questo. Perché la militanza era una cosa importante per loro. Purtroppo era al servizio di una causa totalmente sbagliata, il post-fascismo, e oggi si vede anche il potere. Questa è la seconda degenerazione. Il potere. Noi sappiamo che c'è un caso Sant'Anche. Il problema dei soldi recepiti come cassa integrazione, mentre a quanto pare lavoravano le persone dell'azienda, per cui si chiedeva la cassa integrazione, cosa provata in qualche modo, non dal punto di vista giudiziario, ma che certo ha un peso politico, da questa telefonata del compagno di Daniela Sant'Anche a una dipendente che diceva, ma come? Io lavoro e se voi prendete la cassa integrazione, ascoltiamo. Però non è come scrivi tu nella mail, perché sono tutti come te. No, non è vero. Non è vero, t'assicuro. T'assicuro. Sono in cassa integrazione tutti, tutti a zero ore. Mi conferma Paolo che sono tutti a zero ore. Va bene. Anche Maggioni è a zero. E qui, davanti a me, è a zero ore. Il problema ce l'ho io. Nel senso che se domani mi inizia un controllo, vieni qua e ti fa vedere il computer che hai lavorato da aprile 2020, maggio, giugno, eccetera. Evitiamo. Se venisse fuori un controllo, perché dobbiamo essere anche sfigati? Che cosa ti devo dire? Ma se ti autodenunci e poi dopo anche l'azienda, anche noi dovremo difenderci. Cioè, poi dopo ci mettiamo l'uno contro l'altro, in maniera sbagliata. Tutto lì. È chiaro che da un punto di vista politico il giudizio parte, anche se non si ha la sentenza definitiva, anche perché di chi parliamo? Cartello 34. Allora, Dimitri Kunz. Allora, lo strano caso del cognome. Dunque, così il compagno di Sant'Anche è stato registrato dal padre, Alberto Kunz, all'anagrafe di San Marino. Noi vediamo in giallo ciò che è stato aggiunto all'anagrafe, perché se registrato in Italia avrebbe potuto al massimo avere il cognome del padre. Quindi Dimitri Kunz. In realtà, in Italia, Principe può essere solo un nome proprio. Quindi è stato registrato come nome proprio Principe Dimitri. Come cognome Kunz, Dasburgo, Lorena, Piast, Bielitz, e poter aggiungercene altre 20. Allora, anche questo si è liberi di farlo, no? Sì, nei cinepanettoni, però. Il problema forse è quello. Sembra Cristian De Sica, un misto tra Cristian De Sica e Fantozzi, no? Se tu metti insieme i due casi, poi c'è il cartello 31, che la moglie del Presidente del Senato e Dimitri Kunz comprono una casa per 2 milioni e 4, la rivendono in un'ora a 3 milioni e 4, guadagnano un milione e la cosa finisce così. Allora, che paese sceglie quale rappresentanza politica? In questo senso, come dicevamo prima, un po' è un tema dei partiti, un po' è un tema del paese. Verrebbe da dire così fan tutti. In realtà non lo fanno tutti, lo fanno molti, questo senz'altro. E quindi, alla fine, anche in questi casi, come si vede, il ceto politico riflette lo spirito profondo di una nazione. È sempre stato così. Però, in questi ultimi tempi, e quando parlo di tempi parlo di qualche anno, è quello che dice spesso Antonio Albanese, che ha come personaggio classico Cettola Qualunque, no? Cioè, la realtà è andata oltre. È andata oltre, non si può neanche più fare Cettola Qualunque, perché i politici veri e propri, in carne ed ossa, sono peggio di Cettola Qualunque. E allora ora introdurremo un altro autorevole ospite per Ferdinando Casini, ma con una domanda che ti pongo. A questo punto ha ragione il PD a dire guarda, se tu fai politica, alla fine questi casi li incontri. Ora, prego.